Ecco l'entrata in campo delle due squadre Virtus Castelfrentano e Bucchianico a calcio della categoria giovanissimi, girone di Chieti, gara di recupero Forza ragazzi, bocca al lupo, grinta, grinta Ecco i ragazzi vanno a salutare i coetanei della panchina, viceversa, qua Tra pochi secondi inizia la gara Alle casacche, ok bravi, tutti in casacca Andate a salutare Ecco i ragazzi che ritornano alla panchina